Sensibilizzare i giovani delle scuole alla sicurezza stradale e onorare il ricordo degli angeli della strada della nostra città sono le motivazioni per cui ieri mattina si è tenuto un evento presso la parrocchia San Giovanni Evangelista. Io dico sempre che non sono nessuno per fare educazione stradale, non voglio entrare nemmeno in questo compito, però cercare di sensibilizzare i giovani, sensibilizzarli per far sì che disgrazie come la mia non accadano più. perché si può stare adottando un po' di prudenza, si può risparmiare un dolore atroce alle famiglie. Attraverso queste iniziative si può informare, formare, educare i giovani. Noi come corpo di polizia municipale siamo voluti essere presenti, c'è stato l'ispettore Sauna che ha voluto fortemente questa iniziativa per poter educare i giovani, lanciando quel significato profondo che stiamo lanciando in tutte le scuole, La vita è bella, che non è solo il titolo del film di Benigni, ma è proprio il significato che vogliamo dare a questo progetto di formazione e di educazione stradale e di sicurezza urbana a tutti i nostri studenti. Si sta facendo formazione e informazione, ma anche attraverso la sensibilità dei ragazzi stimolati dagli insegnanti e dalle famiglie delle vittime degli angeli della strada. Ci saranno momenti anche di preghiera e di ricordo, con letture di poesie, con memoria delle vite di questi angeli e poi alla fine faremo anche un segno, un canto innalzato tutti insieme con i palloncini che saliranno verso il cielo come questa preghiera che sale verso il Signore. Un momento per fermarsi, riflettere e ricordare i tre ragazzi che hanno perso la vita sull'asfalto della nostra città, in particolar modo per gli studenti dell'Istituto Sturzo, compagni di Vittoria, che hanno scritto i nomi delle vittime su delle nuvolette di carta che verranno poi appese su un albero della scuola. Affinché siano lì per proteggere i compagni come dei veri angeli, per ricordare loro che la vita è bella ed è solo una, come hanno più volte recitato i relatori dell'evento. Oggi siamo venuti in questa parrocchia per ricordare una nostra vecchia compagna che purtroppo è venuta a mangare tre anni fa, ossia Vittoria Caruso. La mamma infatti ha deciso di organizzare questa giornata coinvolgendo noi ragazzi che siamo stata l'ultima classe che ha avuto e siamo qui per ricordarle e per sensibilizzare questa tematica degli incidenti stradali. Si può sensibilizzare appunto a questa etenerità anche tramite questi incontri, che appunto grazie alla promozione di Irene, della mamma della nostra compagna. Questa cosa è molto importante, infatti ci fa riflettere su come comportarci in strada con i mezzi che usiamo tutti i giorni. Quelli che sono i ragazzi oggi in fondo saranno gli automobilisti, purtroppo o per fortuna dipende da come lo si voglia guardare del futuro. Loro devono essere la generazione che deve cominciare a cambiare quelli che sono i criteri della mobilità, deve cominciare a scegliere forme alternative di mobilità diverse dall'autovettura. Già è quello che sta accadendo in posti d'Europa, in posti d'Italia che sono certamente più centrali, non periferici come questa piccola città che è Gela, ma le scelte che possiamo fare sono scelte importanti e quindi sono scelte che i ragazzi possono e devono fare oggi per la loro sicurezza e per una vivibilità urbana diversa. Un pensiero è stato dedicato anche ad Erika, la giovane mamma morta a 21 giorni dopo aver dato alla luce due gemelli.